Una partita dai due volti, siamo partiti molto bene e non siamo riusciti a mantenere il ritmo. Questo ci fa un po' dispiacere per il fatto che chiaramente le qualità ci sono e le possibilità ci sono. La squadra, lo sapevamo, ancora giovane abbiamo giocato con gli americani meno, ma queste sono cose che non sono scuse, sono cose che capitano in tutta la stagione, magari rientrerà questa americana e non uscirà un altro. Dobbiamo mantenere il livello alto con i giocatori che abbiamo in quel momento. Sicuramente era una partenza un po' il buio perché questa squadra dei Ducks era completamente nuova sia nello start degli allenatori che in tanti giocatori. Vedere il bicchiere mezzo pieno è il mio modo di interpretare questa partita. Grazie a tutti.